Buonasera e benvenuti amici di Rockwalk. Direttamente dalla provincia di Bologna, Elia, Dani, vi presentano il Dolly from Amsterdam, un drink a base citrica e insetante come l'aranci gialla, che ha un sapore avvolgente come la luna. E' creato anche su una base amaricante e tannica del whisky torbato l'attuale. Ma cominciamo, ve lo presentiamo. Prendiamo il nostro bicchiere e lo mettiamo di ghiaccio e prendiamo il nostro shaker e cominciamo versando esattamente 6 cl di aranza gialla. Lo seguiamo con 3 cl di bocca. Diamo anima a un drink dopo il cuore. E prendiamo l'altro e l'altro ai con l'opatto e ne mettiamo un cl esattamente. Un cl di purea di passion fruit. Un cl americano di vitore. Un cl americano di vitore. Un cl di succo di limone, esattamente. E un cl di succo di limone, di lime, di scirotto di zucchero e timo o me. Diamo sostanza con 0,75 cl di albume d'uovo. seccheriamo. Sfiltriamo il nostro drink. Aggiungiamo la nostra decorazione e finiamo con petali di infiori e due mosse di bitter al ibisco. Mi presentiamo il drink amaricante e dissetante come il passato ma allo stesso tempo incerto e avvolgente come il futuro. Ringrazio l'ispirazione da cui è dato questo drink che è un viaggio in Olanda e ringrazio la persona che ho fatto il viaggio in Olanda perché si sa tutte le cose belle nascono sempre anche dalle avventure e posso dire fine a una realizzazione di un pensiero che due anni fa quando ho fatto questo viaggio avevo solo immaginato. Oggi lo vengo creato e è una grande soddisfazione. E lì. Io voglio dedicare questo drink a Dani perché mi ha con i voti questa cosa meravigliosa e l'ospitalico con divisione quindi lo dedico a lui. Volevo dedicare questo drink a mia nonna perché se mi sono permesso mai di andare a parlare i voti di hospitality è solo grazie a lei. È solo grazie a lei che da quando sono nato, tutte le domeniche, mi dà il migliore esempio che io possa mai percepire avere, di tenere la casa, tenere la famiglia e tenere soprattutto ai valori e penso che sia una cosa più fondamentale per la nostra vita. E per me, l'ospitalità, per me Elia è sua nonna. è il valore per eccellenza, casa, famiglia. Un bacio a tutti e mi raccomando, stay rock and stay walk. Rock and roll, rock and roll ragazzi.